Ciao io e bentornati in minecraft time nello scorso episodio siamo venuti nel nether abbiamo messo a posto tutta questa zona qua della gold farm e visto che abbiamo completato anche questa zona qua del mondo oggi entriamo da un'altra parte ovvero la casa principale per cercare di finire invece la casa perché quella lì da un sacco di tempo non la tocchiamo neanche lontanamente e finalmente è arrivato il tempo di continuare a portarla avanti ora però qua è già tutto in posizione non credo dobbiamo fare molto altro di particolare lo so comunque il discorso quelli degli animali ma non vi preoccupate quello lì ci penserò più avanti in un altro modo non vi preoccupate ho dei piani e devo anche dire che il progetto di oggi in realtà come avevo fatto per la città steampunk nel cielo visto che dovevo fare 100 altre cose contemporaneamente e se non chiedevo aiuto questo video qua non sarebbe mai uscito ho di nuovo chiesto aiuto a den che vi lascerò tutti i suoi link in descrizione per aiutarmi in questo episodio qua perché c'è un altro progetto a cui sto lavorando io contemporaneamente e in questo modo per portare avanti a serie ho chiesto di nuovo il suo aiuto per permettermi un pochino di portarmi avanti e continuare a creare episodi nel mentre faccio dell'altro quindi non vi preoccupate sto progettando dell'altra roba e anche in realtà oggi molta della roba che vedrete in realtà è fatta da me perché come al solito lui ha fatto la maggior parte del lavoro ma io come al solito cambio alcune cose aggiungo dei dettagli e roba del genere quindi qua non credo che abbiamo molto altro da fare questa zona qua è un casino mi piace tantissimo e secondo me è venuta molto bene come vedete non c'ho ancora le shaders però dallo scorso episodio ho fatto un altro video costruisco tutti i vostri commenti assieme due e lì sono riuscito a far funzionare la replay mode e lì c'erano pure le shaders come mai? non lo so nel ladder non funziona più niente quindi oggi non costruiamo nel ladder quindi nuovo shader e quindi di nuovo un timelapse ma va bene visto che quello che dobbiamo costruire oggi è la casa principale ci dirigiamo alla casa principale ed iniziamo a fare alcune cose come vedete dalla scorsa volta non ho fatto assolutamente niente ed anche oggi andremo a cambiare delle cose che in realtà abbiamo già fatto in passato perché per portare avanti questa costruzione qua bisogna creare delle nuove basi e bisogna creare un attimo dei nuovi concept per dare un senso anche alle prossime costruzioni quindi andremo ad esempio a cambiare il colore dei tetti di quella zona lì aggiungeremo qualche dettaglio là in cima e poi ovviamente andremo avanti con altre zone completamente nuove della costruzione ma quello inizieremo tra poco a farlo per il resto oggi non faremo come al solito gli interni per quello lì ci penseremo più avanti tecnicamente anche per quello lì ho un piano quindi non vi preoccupate prima o poi arriveranno almeno della casa principale li faccio ma non oggi perché oggi andremo già a fare parecchio prima di iniziare però con grandi costruzioni e roba molto più importante che andremo a costruire in questa zona qua bisogna fare qualche modifica nelle zone che abbiamo già costruito tipo una casetta là in cima tipo aggiungere una bandiera là cambiare il colore del tetto lì aggiungere un tetto in quella zona là uno scorrimano là attorno quindi sono tutte piccole cose che se facciamo adesso è meglio perché poi possiamo andare a fare altra roba più importante più avanti quindi mi metto a fare queste piccole cose e poi pensiamo alla vera roba nuova ok alla fine mi sono ritrovato ad aggiungere una sola piccola cosa che è quella casetta là in cima però per il resto ho fatto comunque alcune modifiche prima di tutto vedete che quel tetto lì è diventato dei prismarine anzi forse meglio se prendo un posto dall'altro per farvelo vedere meglio appunto questi due tetti qua li ho cambiati con della prismarine ho aggiunto qua praticamente una passerella che condona tutta la parte frontale della casa ho aggiunto qua una piccola casetta con sopra un albero che dopo posso anche in realtà salire per farvi vedere meglio ho aggiunto attorno a questi tetti qua e anche attorno a quelli lì in realtà ho aggiunto anche del legno per dare un pochino più di senso per quello che andiamo a costruire successivamente perché funziona un pochino meglio ed ho aggiunto anche qua un tetto che praticamente chiude questa zona qua così ci permette successivamente di costruire altre cose dietro perché prima non c'era un ottimo metodo quindi questo qua è un buon metodo per farlo e qua dietro poi continueremo a costruire e lo faremo tra poco ora però posso poi in realtà venire di qua ah sì tra l'altro ho aggiunto qua una piccola decorazione con una bandiera là in cima è stata aggiunta la bandiera e questa casetta qua in realtà è super semplice si può anche raggiungere a piedi attraverso questa zona qua perché appunto creato negli episodi passati questa scaletta qua e finalmente possiamo utilizzare in un metodo sensato perché ci porta qua in cima giriamo tutto attorno entriamo qua dentro e siamo dentro la casa questa qua ha un minimo di interni però non ha nessuna decorazione ha soltanto gli interni in posizione proprio la base del tutto su cui poi si può andare a costruire per il resto qua si entra in questa zona un pochino più alta per caso mai buttarci qua per caso mai ci fosse una necessità almeno c'è pure questa parte del ponte che esce mentre di qua c'è appunto la passarella con tutta questa zona qua che contornerà la parte sopra della casa e qua successivamente andremo ad aggiungere altre cose inoltre qua sui lati per dare un senso al resto della casa serviva qualcosa per mantenere la casa un attimo più in alto quindi sono stati creati due muri su cui poi potremo andare anche ad aggiungere in futuro a creare delle decorazioni e roba del genere ma sono semplicemente due muri molto semplici belli frastagliati come se fosse costruito con le cose che ti trovavi sul momento sassi e roba del genere esattamente come in realtà il resto della casa perché ogni singola parete è un pochino rovinata ed è un pochino consumato con il passare del tempo quindi è normale che anche la parete qua al lato sia così ora però visto che praticamente questo è tutto quello che ho fatto se non sbaglio sì credo di sì possiamo iniziare pure a costruire qualche altra roba qua in cima quindi e questo va finalmente sarà una cosa veramente nuova lo so che avevo detto che non aveva fatto nulla di nuovo ma poi ho fatto una casa che tra l'altro questa casa qua tutti i cammini fatti in questo modo perché mi piace è figo espandono in questo modo strano è bello mi piace non c'è ancora nessun tipo di fumo né niente non credo di andare a fare oggi adesso facciamo della vera roba nuova perché così si può iniziare per bene a continuare la casa principale ed eccoci qua in cima cosa intendo per qua in cima perché non avete idea in realtà di dove sono qua accanto c'è appunto la torre quindi capito che in realtà sono abbastanza in alto e questo sono un paio di tetti che ho messo qua al lato e appunto ho costruito questa zona qua dietro al ponte che praticamente rende la casa ancora più alta perché come vedete tutta quella zona lì adesso prima era semplicemente questa parte qua adesso continua e continua ad andare in su fino a quella zona lì dietro continueremo a costruire dell'altra roba e tra l'altro oggi non finiremo tutta la casa principale quindi non vedrete tutto però per il resto questo qua è quello che abbiamo fatto al momento in realtà soltanto in questa piccola costruzione qua c'è parecchia roba qua c'è un piccolo tetto al lato di colore ciano ci sono questi due tetti in cima di colore rosso c'è tutta questa parte della costruzione con dietro delle finestre nere perché al momento attuale non so ancora cosa ci costruirò dietro quindi per il momento rimarranno delle finestre nere con niente dietro in futuro quando andrò a fare gli interni di sicuro releverò il nero però al momento attuale non so assolutamente cosa metterci e per il resto anche qua vedete dove avevo messo il muro prima la casa continua a salire esattamente con gli stessi tubi del passato perché mi piaceva l'idea dei tubi un pochino di resto della costruzione là in cima dei tetti oppure ho messo un pochino di legno indietro semplicemente perché in futuro ci tornerà utile però probabilmente oggi rimarrà così questa parte dietro non faremo praticamente nient'altro in questa zona e per il resto questa qua probabilmente è la zona che rimarrà più incompleta nell'episodio di oggi serve comunque per dare un senso al resto però mi sembra palese che qua manchi un muro di qua c'è un bordo e una ringhiera di qua c'è assolutamente niente quindi poi andremo ad aggiungere dell'altra roba e sarà della roba molto carina quindi questa parte qua della costruzione secondo me è quella che ha meno senso da sola ma perché non deve rimanere da sola ora però visto che abbiamo fatto questo la parte che andremo a completare meglio in questo episodio qua in realtà è tutta questa zona qua al lato quindi non ci prendiamo in chiacchiere e continuiamo con quella zona lì ed ecco qua quest'altra parte della costruzione fatta come vedete praticamente sono tre casette una accanto all'altra con sopra due alberi di pino e questa solita cosa che faccio con questa costruzione qua di mettere un pochino di colori a giro con dei panni colorati tipo fossero le costruzioni nel Himalaya? sono quelle? non ne sono sicuro credo sia quello ma potrei sbagliarmi e ovviamente anche questa zona qua non è ancora completata perché l'intera casa è parecchio grande c'è un sacco di roba da fare quindi completamente mancato quindi ci sono parecchie cose da fare parecchie cose da completare e non possiamo farlo tutto in un colpo perché sennò morirei quindi è meglio fare piano piano e mostrarvi le cose una dopo l'altra perché tra l'altro appena entriamo qua dentro vedete che qua la passerella ha già un pochino più di senso e possiamo arrivare alle case e quindi queste case qua hanno un collegamento a differenza della costruzione di prima che non ci avevo pensato da dire prima però non è collegata a niente tecnicamente tutta quella zona lì non la puoi raggiungere in nessun modo queste qua invece hanno appunto un interno tra virgolette anche questa qua ha una porta per entrare che ci porta verso il resto della casa e in futuro quando faremo gli interni vedete che ho fatto già un minimo di pavimento però ce ne penseremo più avanti a questa cosa qua e poi c'è anche tecnicamente questa via qui ho aggiunto una porta anche in questa zona qua perché casomai si può creare qualcos'altro qua dentro e può essere questa qua il passaggio per andare verso la casa in cima ma al momento attuale non c'è ancora niente quella zona lì continuerà a rimanere distaccata rispetto a tutte e a tutti fino alla fine dell'episodio a quello penseremo nel prossimo queste case qua tra l'altro lo costruite sempre con lo stesso stile con la stessa logica di quello che ho fatto giù per ora alcuni sono di legno alcune sono di pietra l'unica differenza che qua ci sono anche i log nel lato della costruzione cosa che nessun'altra delle case che ho qua giro funziona in questo modo qua però giusto per avere una cosa differente e per dare un pochino più di senso di parti della casa di staccate ho preferito a fare in questo modo per il resto roba che abbiamo già visto un sacco di volte le finestre realizzate in questo modo alle finestre con i vetri colorati i tetti realizzati in questo modo con colori molto accesi come al solito qua ci sono i soliti camini che non hanno ancora il fumo però sono appunto i cammini che abbiamo iniziato a fare originariamente lì posizionati anche la i due pini che sono gli stessi che utilizziamo qua sotto quindi all'incirca segue sempre la stessa logica ed è un continuo della casa in tutto e per tutto ma questa qua appunto è la parte più simile al passato e che comunque deve dare un senso al tutto nonostante lo stile della casa sia appunto un sacco di roba messa assieme come se non avesse un senso logico comunque devo dargli un minuto di senso logico sennò esce uno schifo incredibile e adesso proprio per continuare con questo stile qua vedete che qua sopra c'è un buco gigantesco dentro cui non c'è ancora niente questa zona qua non è ancora stata collegata ad assolutamente niente e tutta quella zona lì come vedete come vedete qua c'è il muro ma sopra non c'è ancora niente quindi inizio a costruire questa roba qua e vi mostro i prossimi progressi ed ecco qua un'altra parte della costruzione fatta come vedete mi sembra abbastanza evidente più continuo con questa costruzione che sto volontariamente evitando delle costruzioni perché vedete che qua c'è tutta la parte delle costruzioni ma ups improvvisamente qua c'è un buco gigantesco su cui non compare assolutamente niente che oggi non andremo a fare guardiamo il dietro di questa parte qua e o improvvisamente anche questa zona qua non c'è niente dietro chissà perché forse lo costruiremo più avanti ovviamente lo costruiamo più avanti quello su cui ci concentriamo oggi è completamente differente e sta per arrivare la notte e che non mi rende molto contento ma vabbè comunque vedete che anche qua dietro ho aggiunto un'altra parte della costruzione come al solito ci sono i soliti tubi grigi che ho messo pure nel resto della costruzione il tetto utilizzato al prismine perché era l'unico tipo di tetto che praticamente si poteva collegare a questi due senza essere dello stesso colore degli altri e dovrei andare a dormire sembra un'ottima idea lente quindi dovrei andare a dormire guarda qua è incredibile comodissime rata avere una casa completamente vuota perché posso andare a dormire velocemente in questo modo qua senza preoccuparmi di niente è fantastico perché non lascio la casa completamente vuota forse perché anti estetica potrebbe essere un problema e poi ci sono appunto questi due punti che come vedete al momento attuale non sono collegate niente e non portano da nessuna parte al momento attuale non verranno collegate alla casa però questa zona qua credo che sia completamente fatta non credo avrei aggiunto nient'altro ho aggiunto appunto un altro filo qua con i soliti panni colorati e così praticamente chiude questa parte della costruzione qua e la rende un minimo sensata in questa zona di qua invece però questo altro lato del ponte non è per niente finito e come avete visto per oggi non abbiamo ancora fatto nessun timelapse né niente perché quello che andremo a costruire oggi è esattamente qua e non è proprio parte della casa è più che altro un veicolo quindi mi metto a costruire in timelapse questa ultima parte della costruzione iniziamo ed ecco qua il dirigibile in posizione è dall'inizio della serie che pensavo di fare un dirigibile io non sono capace a fare dirigibile ci ho provato mille volte in mille metodi differenti ed escono sempre un pochino strani ed un pochino incasinati quindi il fatto che Dan mi ha aiutato con questa cosa qua sono molto contento perché finalmente abbiamo un dirigibile e non sembra una cosa storta e strana come la fare io Tendenzialmente comunque per il resto come vedete c'è la G di gravier non è stata la mia idea è stata una sua idea quindi non vi preoccupate non sono in un megalomale è stato Lui ha deciso di fare questa cosa qua e per il resto in realtà un po il progetto che avete visto tutto per oggi in realtà è abbastanza differente rispetto all'originale che aveva fatto Dan perché io e lui abbiamo dei metodi di costruire completamente differenti Lui è più professionista in queste cose qua io invece faccio più le cose per me quindi non sono Abituato a fare certe cose che tendenzialmente fanno builder professionisti quindi in realtà Molto spesso le costruzioni che vedete qua al giro ho cambiato completamente i colori ho aggiunto dettaglio Ho cambiato il colore della base della costruzione semplicemente perché perché mi piaceva vederlo in un metodo differente e quindi col passare del tempo Un minuto l'ho cambiato probabilmente alla fine del prossimo episodio vi mostrerò il progetto Originale che mi ha dato Dan perché voglio comunque mostrarlo però per il momento attuale c'è un sacco di altra roba che devo finire di costruire quindi non L'ho mostro adesso per il resto come al solito non ho ancora finito di fare gli interni niente Quindi ancora c'è il nero che blocca la porta non c'è ancora nulla in posizione per bene però per il Resto il tipo di colore abbastanza simile al resto è molto nello stile comunque della mongolfiera che abbiamo costruito dall'altra parte e con cui abbiamo Iniziato la serie e per il resto credo che per oggi possa bastare abbiamo fatto Abbastanza roba penso contanto il fatto che nel posto episodio finalmente concluderemo la casa principale A quel punto ci rimarrà davvero molto poco in realtà per concludere la serie quindi tra minecraft time mancraft ita siamo Per entrambe le serie davvero gli sgoccioli qui sono molto contento perché Sono delle serie tremende da portare beh dai un che per oggi penso possa bastare ma quindi spero che abbiate apprezzato Spero di rivedervi nel prossimo episodio ciao a tutti Ciao a tutti